La festa delle luci di Lione in un video a 360 gradi, iniziata giovedì 8 dicembre, accoglierà milioni di visitatori fino a domenica. La festa, così come la conosciamo oggi, un'architettura di luci e colori, risale al 1989, ma affonda le radici nell'ottano 1643, quando i lionesi si rivolsero alla Vergine Maria contro la peste. Da allora le rendono omaggio nel giorno dell'Immacolata con Lumicini e da quasi 30 anni con installazioni che vedano all'opera i più importanti artisti della luce. Quest'anno forze e presidi di sicurezza sono imponenti. Nel 2015 la manifestazione fu annullata per motivi di sicurezza dopo gli attentati di Parigi. Usate il mouse per guardare il nostro video a 360 gradi. Grazie.